Dominare i mercati volatili non è semplice, soprattutto quando la volatilità è una lateralità, ma noi ci proviamo attraverso due semplici consigli. Ben trovati a Segreti Bancari Live, i podcast che ogni venerdì vi aiuta a investire in modo più consapevole, più semplice, più redditizio. Ci siamo trasferiti, come vedete non è lo studio abituale di registrazione, ma anche in vacanza ho piacere di essere vicino a voi per condividere, oltre che il rumore di grilli che sentite in lontananza, anche alcune riflessioni sui mercati in questo momento. Perché parlo di lateralità? Perché è molto probabile che i mercati finanziari non abbiano più quella ripartenza che hanno avuto nel periodo Covid. Se vi ricordate nel marzo del 2020 ci fu un evento straordinario, i mercati persero il 30% in tre settimane per poi recuperare tutto in tempi molto brevi e questa è proprio una V, caduta molto repentina e recupero altrettanto rapido. Oggi questo non succederà più, perché sono cambiate alcune cose. Anzitutto è venuta meno la fiducia incrollabile nelle banche centrali, argomento di cui vi ho parlato anche diffusamente in altri video, cioè dal 2007 in avanti le banche centrali sono state viste come dei salvatori di ultima istanza dei mercati. I mercati crollavano, le banche intervenivano. Oggi le banche centrali non hanno più questo ruolo, perché devono combattere l'inflazione e quindi mancando il principale supereroe che ha salvato i mercati negli ultimi anni, i mercati stessi dovranno trovare altri spunti e altri stimoli per ripartire. Lo rifaranno come ha sempre fatto, però ci vorrà un pochino più tempo, per cui nei prossimi anni verosimile che ci sarà una fase diciamo di stabilizzazione dei mercati con alti, bassi e così via per poi risalire di nuovo in maniera più sostenibile come sempre è stato fatto. C'è anche un'altra cosa da dire che è cambiato il sentiment, cioè gli operatori che erano fondamentalmente ottimisti sui mercati azionari dallo scorso inverno non lo sono più stati. Un po' perché c'è un pessimismo diffuso, un po' ovunque, perché c'è la guerra, perché c'è l'inflazione, perché c'è la siccità, perché c'è la carestia, ma soprattutto il crollo generalizzato che ha colpito i mercati finanziari tra gennaio e giugno del 2022 ha spiazzato un po' tutti. Voi pensate cosa è successo ai bond? Le obbligazioni non perdevano, chi ha investito in bond perde e oggi non sa più dove mettere i soldi. Quindi questo fenomeno di pessimismo pervasivo ha fatto sì che le persone oggi non sono più così entusiaste di investire sui mercati e soprattutto si è rotto quel meccanismo del buy on dip, ovvero compra sui ribassi perché i ribassi saranno seguiti subito dopo da rialzi altrettanto importanti che è figlio del intervento delle banche centrali perché negli ultimi anni funziona così. Un importante gestore a un altrettanto importante fondo edge diceva agli ultimi 10 anni bastava comprare le prime 5-6 azioni dell'indice S&P 500 quando stornavano a dormire tranquilli, i prossimi anni non sarà più così. Questo non vuol dire che i mercati finanziari siano diventati assolutamente imprevedibili perché in realtà lo sono sempre stati, non vuol dire che i mercati finanziari non possano più rendere, vuol dire che dovremmo abituarci con delle fasi di grande turbolenza, quindi di rialzi forti e ribassi molto forti a cui però non fa da contrattare un movimento di segno opposto, quindi un ribasso, una fase di stabilità e poi magari un rialzo dopo un certo periodo. In poche parole i mercati saranno guidati dalla economia più che non dagli stimoli monetari e dalla cosiddetta droga monetaria. Jack Bogle qualche anno fa prima di morire alla veneranda età di 90 e più anni diceva che è verosimile immaginare che nei prossimi 10-15 anni il rendimento di mercati azionari sarà intorno al 6-8% e lo stimava in base a che cosa? In base al tasso di rendimento intrinseco del dividendo, il cosiddetto dividend yield, cioè rapporto fra dividendo azionari e prezzo, più il tasso atteso futuro di crescita dei dividendi. Tutto questo meccanismo se si era rotto negli ultimi 10 anni oggi forse verrà ripristinato. E qua subentra l'altro aspetto, che le obbligazioni fanno concorrenza alle azioni, quindi con i crolli che ci sono stati, con il BTP decennale che rende il 4%, le persone hanno più voglia di investire in obbligazioni rispetto alle azioni che sono comunque percepite come più volatili. E questo punto fa sì che i mercati presentino questo andamento ondivogo, cioè non una traiettoria più o meno lineare verso l'alto, neanche un mercato ribassista, seguito poi subito dalla ripresa, ma magari delle fasi di lateralità che gli esperti chiamano choppy market, cioè mercati laterali. E in questi frangente cosa può fare l'investitore fai da te, quello che non vuole iscriversi a un servizio professionale di consulenza, come per esempio il nostro investment club, di cui vi lascio il link in descrizione, beh può fare due cose, la prima cosa è il classico vecchio caro pack, ovvero programmare un acquisto rateale per entrare a più tranche sui mercati. Interessante che degli studi americani hanno dimostrato che chi avesse fatto ipoteticamente un pack dove investiva ogni giorno la stessa quantità di denaro per un periodo lungo, avrebbe abbattuto gli indici. Ora un pack in tempo reale non si può fare, però devo dire che anche l'industria del risparmio gestito si sta muovendo in tal senso, perché alcuni grandi player di cui non faccio il nome hanno azzerato le commissioni sul pack, un altro servizio che ha trovato online molto diffuso permette anche l'investimento in etf attraverso la modalità frazionata, che vuol dire che voi comprate non un etf ma un pezzettino di etf, cioè si sta cercando in tutti i modi di avvicinare l'investitore al pack democratizzando lo strumento, cioè rendendolo dato anche per persone che hanno piccole disponibilità. O chi ha una disponibilità anche importante può fare quello che ho detto prima, cioè può ipoteticamente attivare magari più pack sullo stesso indice per importi molto piccoli, così da avere una sorta di pack magari settimanale, o perché no giornaliero. Io attivo n pack ognuno di quali compra a distanza di un mese, a me ne attivo ipoteticamente 15 e compro a distanza di due giorni. Questo è interessante sia nella fase di accumulo sia nella fase anche di decumulo, perché tutti noi pensiamo ad un pack come strumento per governare il momento di ingresso dei mercati sui mercati, ma ricordate bene che il pack funziona anche come strumento di decumulo, quindi per andare a disinvestire quando magari il capitale è già stato accumulato. In questo caso semplicemente andate a disinvestire, a rimborsare quote di un fondo azionario, di un etf per un importo costante variando il numero delle quote in base alla loro quotazione, quindi semplicemente dividendo il valore che voi volete rimborsare per il valore quota in quel momento. La seconda tecnica che ormai tutti conosciamo è la tecnica del ribilanciamento, quindi comprare basso e vendere alto, ripristinare i pesi periodicamente, lo potete fare ogni tre mesi, che quando storicamente le autocorrelazioni con i rendimenti sono più bassi. È tutto così semplice? No, cioè semplice ma non è facile. La ragione è che da un lato sia il pack, sia il ribilanciamento permettono di migliorare la performance e ridurre i rischi in mercati laterali. Hanno il vantaggio di essere automatici, quindi sostanzialmente di andare avanti da soli, il problema è che dietro ci siete sempre voi, cioè se voi fate un pack e quando il mercato inizia a perdere quota, poi di fatto interrompete il pack stesso, beh questo non vi porterà i risultati, è come se voi coltivaste i pomodori e quando poi i pomodori iniziano a fiorire ve ne andate via e non vi irrigate più, dovete completare il ciclo. Lo stesso modo vale anche con il ribilanciamento, il ribilanciamento funziona soprattutto in momenti estremi, però io mi rendo conto che se capitasse un altro ottobre 1987 con il Dow Jones che perse in un giorno credo il 30%, 20%, magari non tutti se la sentirebbero di portare avanti questo discorso. L'ideale sarebbe poter avere un automatismo vero, con una specie di conto segretato dove parte un algoritmo, fa le operazioni e voi per 2, 3, 4 anni non potete mettere becco, in questo modo qua sarebbe la soluzione migliore. Mi rendo conto che non è così, il vantaggio però è quello di, quantomeno se non eliminare, di ridurre l'impatto delle emozioni, perché se voi avete una scaletta e sapete che cosa fare col calendario, come vi segnate sul calendario le cose da fare, vi segnate anche le operazioni di ottimizzazione da effettuare, beh sicuramente farete meglio che non facendo da soli. Questo è l'unico consiglio che vi do, perché dominare i mercati volatili è abbastanza difficile, soprattutto quando c'è una lateralità. L'ideale sarebbe fare queste due cose, se non ve la sentite piuttosto restate fermi. Io attendo i vostri feedback anche su questa location che ci accompagnerà anche ancora per qualche settimana, perché ho trasferito l'ufficio qui e temporaneamente. Grazie per i like, iscrivetevi al mio canale per ricevere tutti i aggiornamenti e noi ci vediamo venerdì prossimo o martedì, per chi segue lo chiamavano Saver. Buon weekend.